Sabrina Ferilli nata a Roma il 28 giugno 1964 da Giuliano, dirigente del Partito Comunista Italiano nato a Roma il 12 marzo 1936, e dai da Fatigati, casalinga originaria di San Felice a Cancello, Sabrina è cresciuta a Fiano Romano, in provincia di Roma. Ha frequentato il liceo classico Razio a Roma. Dopo aver tentato senza successo di entrare al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, iniziò la carriera di attrice cinematografica in parti secondarie, come in Caramelle da uno sconosciuto di Franco Ferrini, e piccoli ruoli in film di secondo piano alla fine degli anni Ottanta. Nel 1989 doppio Francesca Dell era nella miniserie TV La bugiarda. Nel 1990 Alessandro Dallatri la volle nel film americano rosso con il quale l'attrice iniziò a farsi notare in un piccolo ruolo. Nel 1993 recito nella commedia anche i commercialisti hanno un'anima, nel Giudice Ragazzino e soprattutto in Diario di un vizio di Marco Ferreri, mentre l'anno successivo raggiunse la notorietà con La bella vita di Paolo Virzi, con cui ottenne il premio Panorama al Festival di Venezia e il nastro d'argento alla migliore attrice protagonista, oltre che una candidatura alla David di Donatello. Durante gli anni successivi prende parte al film Vite strozzate di Ricky Tognazzi e continua a comparire in buone commedie, come Ferie d'agosto sempre di Virzi e Ritorno a casa Gori di Alessandro Benvenuti. Ha condotto il Festival di Sanremo 1996 insieme a Pippo Baudo e Valeria Mazza. Due anni dopo, ottiene ruoli da coprotagonista nel film drammatico Turidi dei fratelli Taviani e nella commedia Il signor 15 palle di Francesco Nuti. Successivamente ha lavorato anche in teatro e si lascia tentare sempre più dalla televisione partecipando a numerose fiction. Nel 2000 ha posato per il calendario sexy del mensile Max, che ha realizzato oltre un milione di copie vendute. Il 24 giugno 2001, per festeggiare lo scudetto vinto dalla sua squadra del cuore, la Roma, ha eseguito uno spogliarello al circo massimo davanti a centinaia di migliaia di tifosi. Nel 2003 è la protagonista nel film L'Acqua. Il fuoco di Luciano Hammer che viene mostrato al Festival del Cinema di Venezia, l'interpretazione è accolta in modo controverso. In seguito prende parte ad alcuni cinepanettoni come Christmas in Love, Natale a New York, Natale a Beverly Hills e Vacanze di Natale a Cortina che ha difeso con forza. Nel 2008 recita in tutta la vita davanti di Paolo Virzi, vincendo ancora una volta il nastro d'argento. Nel 2013 viene scelta come giudice fissa alla dodicesima edizione del programma Amici di Maria De Filippi, e riproposta per la tredicesima edizione. Nello stesso anno è protagonista, con la regia di Eros Pugnelli, della serie TV Baciamo le Mani, Palermo New York 1958 su Canale 5, e viene scelta come madrina d'apertura del Roma Film Festival. Sempre nel 2013 è una delle protagoniste del film La Grande Bellezza di Paolo Sorrentino, che il 2 marzo 2014 vince il premio Oscar come miglior film straniero. Nel dicembre 2014 debutta sul nuovo canale Agon Channel alla conduzione, con il talk contratto, insieme a Luca Danforlin, 12, l11 aprile 2015 viene confermata giurata fissa nella quattordicesima edizione di Amici di Maria De Filippi, insieme a Francesco Renga e Loredana Bertè. Nel 2015 è protagonista assieme a Margherita Bay di Io e Lady Maria Sole Tognazzi, in cui le due attrici interpretano la parte di una coppia omosessuale liberamente ispirata al vizietto di Eduard Molinaro. Per questa interpretazione vince il ciac d'oro alla migliore attrice protagonista, venendo candidata al David di Donatello e al Nastero d'Argento nella medesima categoria. Nel 2005 si ha Ferilli, da sempre vicina alla sinistra, che Katia Bellillo, deputata dei comunisti italiani, hanno sostenuto il referendum sulla fecondazione assistita. L'attrice ha in seguito dichiarato alla rivista Gente che nonostante rispettasse la pratica della fecondazione assistita personalmente preferiva l'adozione. In seguito Bellillo ha rifiutato di scusarsi ed è stata querelata da Ferilli. In quanto deputata all'epoca dei fatti Bellillo godeva di immunità parlamentare e nel luglio 2008 ha inviato alla Giunta per le autorizzazioni una domanda di sindacabilità, sostenendo fra l'altro di non aver pronunciato la frase incriminata. Il presidente della Commissione Pierluigi Castagnetti ha inizialmente proposto una conciliazione, rifiutata però da Ferilli. Nonostante alcuni deputati si fossero pronunciati per la sindacabilità, la Giunta il 19 novembre ha votato a maggioranza per l'insindacabilità, provocando le critiche dell'attrice al Partito Democratico in una lettera aperta a Walter Veltroni. È stata sposata con Andrea Perone dal 2003 al 2005, dal 2011 è sposata con il manager Flavio Cattaneo. Ma purtroppo Sabrina Ferilli è malata di cancro ai polmoni, un avversario formidabile che rischia di spegnere la luce intensa che un tempo appariva sullo schermo e sul palco. La stella che una volta attirava facilmente l'attenzione con ogni mossa aggraziata e un sorriso attraente, ora sta combattendo silenziosamente la malattia malvagia. I tubi e i fili collegati allo schermo dipingevano un quadro vivido del deterioramento della salute della stella, ben lontano dalla vibrante presenza che affascinava milioni di persone. I respiri rocca che fuoriescono dai polmoni stanchi della stella e cheggiavano nell'ambiente sterile, un ricordo inquietante della progressione implacabile della malattia. Ogni respiro sembrava portare con sé il peso di uno spirito invincibile, ormai sopraffatto dalla debolezza della vita terrena. Con il passare dei giorni, il potere della star scemo, oscurato dall'inarrestabile progressione della malattia. La voce un tempo melodiosa era ora solo un debole sussurro, che pronunciava parole di gratitudine e amore a coloro che facevano la guardia accanto al letto. C'è un senso di urgenza in queste conversazioni, un riconoscimento inespresso che il tempo scorre via. Il pallore della stella, una volta tela per una salute radiosa, ora riflette l'entità della malattia. Lo scintillio negli occhi si attenuò, in profondo contrasto con la luminosità precedente della stella. Nonostante gli instancabili sforzi degli esperti medici, resta una verità evidente, la fine è vicina. Nei corridoi silenziosi dell'ospedale echeggiava il sussurro della luce morente della stella. I fan di tutto il mondo hanno trattenuto il fiato, alle prese con l'imminente perdita di un'icona. La malattia della star si presenta non solo come una tragedia personale ma anche come una tristezza condivisa, un toccante promemoria del fatto che anche le stelle più luminose non sono immuni dall'oscurità che si nasconde negli angoli bui della morte. Internet è diventato la parte importantissima della nostra vita. Fino al punto che oggigiorno non si può nemmeno pensare ad una vita senza aver accesso alla rete. Il modo in cui Internet è cresciuto dimostra un'unica cosa. Avrà un'importanza sempre maggiore nel corso della storia e nel nostro futuro immediato. Tuttavia, Internet è anche un luogo, se così possiamo chiamarlo, versatile. Ci si può trovare di tutto e in profondità, lontano dalla vista della maggior parte degli internauti, ci sono alcuni degli esempi più oscuri e terrificanti di pagine web che nessuno crederebbe possano esistere. Ecco le sette pagine più terrificanti ed inspiegabili di Internet. Numero 7. La Hidden Wiki Includere la Hidden Wiki in questa classifica era abbastanza previsibile. Che cos'è la Hidden Wiki? Cerchiamo di riassumerla in breve. È la porta d'entrata alla Deep Web. È una pagina che serve come indice, una directory che racchiude tutti i siti web che si nascondono nelle profondità della rete. Se cerchi qualcosa di specifico nella Deep Web e non hai nessuno che ti possa passare la URL precisa del sito in questione, la Hidden Wiki è l'alternativa per trovarla. La Hidden Wiki era chiusa di tutto, da pagine curiose e divertenti a siti illegali e orribili. Apprezzata da alcuni e odiata da tutti coloro con un po' di buonsenso che vogliono mantenere questi siti occulti, rimane tutt'oggi presente nella web profonda, ma il suo accesso, fortunatamente, non è più così semplice come un tempo. Numero 6. La pagina Chase & John Si dice e si teme che Internet sia pieno di gente pazza. La frase è un detto abbastanza frequente, ma cosa succede nel momento in cui diventa realtà? Ci sono vari livelli di pazzia. A volte, essere pazza non permette a una persona operare. Altre volte, il pazzo è più che...